Ponte Ancinalesca, lavori devastanti, allarmante denuncia di Italia Nostra. I lavori che la provincia di Catanzaro sta eseguendo sul Ponte Ancinalesca non fanno dormire sonni tranquilli. Alla sezione Soverato Guardavalle Paolo Orsi di Italia Nostra, che da tempo segue con particolare attenzione le vicende inerenti alla struttura che si trova a cavallo dei territori di Satriano e Davoli. Già nel giugno scorso, dopo tre giorni dall'inizio dei lavori per il ripristino del ponte, la Presidente del Sodalizio, Angela Maida, aveva avvisato la soprintendenza della demolizione di un tratto della struttura con lo scivolamento dei detriti nella fiumarella sottostante, con conseguente rischio di ostruzione del corso d'acqua. In quell'occasione Maida aveva messo nero su bianco che i lavori in corso avevano portato a grandi movimenti terra per i quali è prevista la vigilanza archeologica. A distanza di tre mesi da quella prima segnalazione, l'Associazione Italia Nostra è tornata a sottoporre la situazione del ponte Ancinalesca agli enti preposti, oltre alla soprintendenza, anche ai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale e al Comune di Satriano. La situazione, infatti, si sarebbe aggravata. Le immagini in nostro possesso, ha spiegato, evidenziano che i danni causati da un parziale cedimento naturale erano quasi irrilevanti a confronto di quanto è attualmente sotto gli occhi di tutti. Maida ha spiegato che nel corso d'acqua è stata riversata una considerevole quantità di detriti che rischia di ostruire pericolosamente il torrente e causare ulteriori danni. Lo sbancamento, inoltre, ha messo in luce i resti del ponte antico che però la ditta esecutrice dei lavori avrebbe in gran parte abbattuto. Tale struttura era celata dal nuovo ponte realizzato nel primo novecento. Le evidenze architettoniche risparmiate dalla devastazione a detto Maida erano realizzate con ciottoli di fiume e malta e resta ancora ben leggibile uno spazio vuoto a botte con parte di fondo al cui interno era ricavata una piccola apertura con arco a tutto sesto. Questo spazio, inglobato dalla struttura più recente, è rimasto per lungo tempo accessibile e utilizzato come riparo accessibile dal versante occidentale. Da un piccolo spazio alla congiunzione dei muri fuoriescono delle ossa che per la loro posizione e il voluto occultamento destano perplessità e interrogativi sulla loro natura, animale o umana. La Presidente d'Italia Nostra, inoltre, ha riferito che nelle vicinanze della struttura e sul terreno scivolato sul piano di Calpestio, accanto alle ossa che non sono state toccate dai volontari dell'Associazione, si trovavano dei resti di tessuto e un bottone, che sono custoditi dalla stessa Maida, in attesa di disposizioni da parte delle autorità interpellate. Alla luce di tutto ciò, la sezione Paolo Orsi ha chiesto agli enti preposti un intervento urgente per valutare eventuali responsabilità, nonché i danni apportati alla doppia struttura di un ponte antico e di uno più recente, ma di sicuro di interesse storico. Si richiede, inoltre, di indagare sui resti ossei.